Ciao ragazzi e benvenuti ad un altro episodio di Vita in Florida. Oggi vi porto a fare un volo in un aereo privato da Stewart a San Agustin, quindi da metà sud-est della Florida fino a San Agustin, che è la città più vecchia degli Stati Uniti. E spero che vi divertiate anche voi in questo viaggio. Questo era un video che ho fatto un paio d'anni fa live su Facebook, quindi l'ho riregistrato per farvelo vedere. Più che altro perché la mia fidanzata piacerà di sicuro, quindi... E poi è bello avere ricordi del genere, quindi spero vi divertite, spero vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate e a presto ricordatevi di iscrivervi. Ciao, grazie! 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 Ancora, un sottotitoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.